Capitano Michele si bello si bello si bello mi stava a mettere a posto mi stava a pettinare sto per impu pazzare guarda da lì qua scendete l'asmatica andiamo andiamo lì a fare sempre un po' di dromassaggio I due esploratori cercano di raggiungere la cascata naturale. I due esploratori cercano di raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere. I due esploratori cercano di raggiungere i raggiungere i raggiungere. I due esploratori cercano di raggiungere i 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 raggiungere Siamo grandi fratelli. Siamo grandi fratelli. Un attimo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.